Continua il ciclo di conferenze e seminari sulla medicina scientifica. Nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2024 si terrà al Palace Hotel Legnano il seminario di medicina scientifica dal titolo Le basi scientifiche e biologiche dei sintomi, applicazioni medico-riabilitative. Questo corso è rivolto a fisioterapisti, medici, podologi, psicologi e altre figure professionali che operano in un contesto terapeutico sulla persona. La partecipazione è aperta anche a tutti coloro che hanno una conoscenza progressa delle cinque leggi biologiche. In questi tre giorni vi sarà l'indagine sullo stato dell'arte medica e delle connessioni mente-corpo. Le domande sono il cervello è connesso con gli organi, con i muscoli e le ossa? Come? In quale proporzione? Sappiamo che la scienza è definibile tale solo quando riscontrabile nel 100% dei casi, quando questo non avviene, possiamo solo parlare di ipotesi. Il corso è atto a fornire quindi strumenti di comprensione della medicina scientifica, in distinzione da quella che è arte medica, la quale si limita a manifestare se stessa in forma di ipotesi o statistiche. Le evidenze scientifiche che si riscontrano nelle connessioni mente-corpo rivoluzionano l'eziopatogenesi delle malattie, riposizionano la persona al centro del processo patologico e pongono il medico in una posizione di aiuto anziché nelle vesti di salvatore. La scuola del sintomo Dalet opera nel principio assoluto che spetta alla persona seguitare nel processo di guarigione, al quale il medico partecipa in funzione di guida che concede una mano. Saranno quindi approfondite le basi fisico-chimiche del funzionamento del paleoencefalo e del neoencefalo, l'attività neurologica e lo stato di coscienza. Disquisiremo al riguardo del sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, alla luce delle leggi biologiche. Saranno anche approfondite filogenesi ed embriogenesi dei tessuti, la bussola di modificazione dei tessuti e il loro ripristino cicatriziale. E attraverso lo studio di casi clinici si faranno cenni sul mesoderma antico, sul mesoderma recente e sull'ectoderma. Questo seminario è a cura del dottor Matteo Penzo, ricercatore medico-chirurgo specialista in anestesia e rianimazione, fondatore della scuola del sintomo Dalet. 15, 16 e 17 novembre 2024, medicina scientifica, le basi scientifiche biologiche dei sintomi, applicazioni medico-riabilitative. Per iscriversi è necessario compilare il Google form che trovi in descrizione al video. Si rende anche noto che tutti i moduli di questo corso vengono accreditati ECM. Dalet, la scuola del sintomo, è la porta verso la conoscenza di sé.